Il quattordicenne talento Matteo Rinaldin proda all'Orange Bassano, una nota per la stessa Orange One Bassano, ha annunciato il passaggio di Matteo Rinaldin alla AS di Palacanestro Sanstino. Il giovane talento, l'esterno, è nato nel 2006 a solo 14 anni, si era fatto notare nella formazione sanstinese e ora avrà la possibilità di proseguire il suo percorso cestistico in terra bassanese. Matteo Rinaldin avrà l'opportunità di confrontarsi con altri talentuosi ragazzi che provengono da tutta Italia e di proseguire in parallelo il suo percorso scolastico al New Cambridge Institute. Matteo, afferma Carlo Dacampo, presidente dell'Orange One, è un giocatore talentuoso, un ottimo studente. Tuttavia, quello che mi ha colpito di lui è la determinazione ad eccellere in ogni contesto, qualunque sia la difficoltà prospettata. Credo che la nostra società sia il posto giusto per lui in questa fase di crescita. Le dichiarazioni della stesso presidente invece del Sanstino, Mauro Corbucci, siamo contenti e orgogliosi che Matteo abbia questa importante opportunità di crescita sportiva e umana da una società che riteniamo essere al momento una delle realtà più importanti e organizzate in Italia per lavorare con i giovani. Matteo è cresciuto con noi e uno di noi, speriamo anche se siamo sicuri, sarà in grado di cogliere tutto quello che di questa esperienza gli potrà dare. Per una società piccola come la nostra, che ha la presunzione di credere di lavorare bene con e per i giovani, ritengo questa debba considerarsi una bella soddisfazione. La mission comunque tra le due società ci fa ritenere che in questo momento questa sia la scelta corretta per il nostro giovane prospetto. Grazie. Grazie. Grazie.